Ciao amici, conoscete il gazpacho? È una zuppa fredda a base di verdure crude originaria dell'Andalusia, molto apprezzata d'estate. Una zuppa fredda? È buonissima, ti sorprenderà! Questo gazpacho ha pochissime calorie, è adatto alla dieta estiva perché mantiene leggeri e disintossicati. Se vi piace l'idea mettete subito un bel mi piace a questo video, tanti mi piace e tanti nuovi video. I suoi pregi principali, brucia grassi e detox. È un gazpacho a base di frutti tropicali, mango e papaya sono drenanti e aiutano la digestione e tutte le funzioni intestinali. Il gazpacho è un primo estivo con pochissime calorie che fornisce antiossidanti come la vitamina C, carotenoidi, il selenio e i flavonoidi che contrastano l'invecchiamento, oltre a contribuire all'attivazione del metabolismo e al miglioramento della diuresi. Tradizionalmente il gazpacho viene consumato con le proteine, soia, legumi, carne, pesce, uova, perché ne migliora l'assimilazione. Ecco come si prepara, gazpacho ai frutti tropicali, 2 pomodori maturi, 100 g di polpa di mango, 100 g di polpa di papaya, 6 cubetti di ghiaccio, un cucchiaino di erba cipollina, un cucchiaio di olio extravergine di oliva, 40 g di crostini di pane integrale, quanto basta di sale marino integrale, basilico e pepe. Che bello, una zuppa crudista, velocissima da preparare. 1. Frullare gli ingredienti. Mettere i pomodori tagliati a pezzetti e l'erba cipollina nel frullatore. Aggiungere la polpa di mango e papaya e i cubetti di ghiaccio. Frullare tutto fino a ottenere una crema liscia e omogenea. 2. Condimento. Condire il gazpacho con olio, sale e qualche foglia di basilico. 3. Presentazione. Versare il tutto nelle coppette e servire subito con qualche crostino di pane. Il gazpacho per tradizione si serve tassativamente freddo, ma se vi piace potete intiepidirlo. Proprietà degli ingredienti principali. I pomodori sono poveri di calorie e alleati della dieta, sono ricchi di licopene, diuretici e contrastano la ritenzione idrica. La papaya è un frutto tropicale digestivo che stimola il transito intestinale e attiva il metabolismo. È diuretica e drenante. Il mango migliora il transito intestinale, ottimo alleato contro la stitichezza perché è ricco di fibre. È anche un drenante naturale. Il pane integrale favorisce il senso di sazietà e contrasta la stipsi grazie alle fibre. Inoltre, limita l'assorbimento di grassi e colesterolo. L'erba cipollina è diuretica e antisettica, contiene aromi e antiossidanti naturali che combattono i radicali liberi. Il gazpacho generalmente si mangia freddo in una ciotola di terracotta per trattenere meglio i sapori. Si usa anche come aperitivo servito nel bicchiere o come bevanda energetica e rinfrescante. Per vedere tante altre buone ricettine iscrivetevi al canale con un click così e attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Mangia e bevi consapevole e dimagrisci. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri e the book, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video, nel frattempo ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali Naturalmente. Ciao!